E' pulitissima, è bella, è perfetta, tutto perfetto, puo' vedere anche come è configurata, tutta pulita e non è che c'è difetti, il fiore è proprio bello, 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 non è pelle. Gira un po' le misure, le misure, la misura è la stessa. Questa è andata a 4,5, 4,80, 5,40, la roba è perfetta. Questa è andata a 4,5, 4,80, 5,40. Il capretto, la partita che è sparita di questo, la posso fare, è buona merda. Mentre la nappa ce l'ha lì, perché venne a costruire. No, no, è agnello, favoloso. Questo se tu glielo posi, lo puoi vedere. Cioè, non è roba, gli puoi mandare anche i riferimenti, poi gli puoi mandare un pezzo, un pezzo, gli mandi 1,4 per tipo. Guardate, perché fagli capire che roba compra, non è che, cioè, questa è roba che costa 90 euro al metro. Non è roba economica. Qui manca già un pezzo, un pezzo, ne prendi un altro pezzo, io lo mandi. Gli dice, guarda, ti mando un pezzo per capire quella che stavamo toccando, questa qui, te la mando. Grazie. Grazie.